A pochi giorni dalla commemorazione dei defunti, che si avvicina, torna ad attualità il problema delle stumulazioni che riguardano il cimitero monumentale, il cimitero vecchio di Civitavecchia e in particolare il reparto Guglielmi, un problema che la vostra associazione ha sottolineato in più di un'occasione. Sì, noi siamo ancora qui a sottolineare questo problema, che è un problema essenzialmente di percezione di quella che deve essere una città. Quello che sta succedendo qui, fermo restando al fatto che non ce l'abbiamo ovviamente con i sepolti, perché per noi i morti hanno tutti lo stesso rispetto, lo stesso status, ma anche quelli che sono morti a suo tempo, che hanno rappresentato per la comunità di un tempo affetti e anche persone che hanno portato la Civitavecchia, città di cui tanto si parla, ad essere quella che è. Noi quello che diciamo è che secondo noi non va bene, ci sono state fatte delle promesse in evasi, ma ce l'aspettavamo. Io però mi continuo a stupire che tutto sommato alla fine moriremo anche noi, cioè moriranno anche loro. E a loro piacerà essere sepolti in questo cimitero? Anche perché c'è il cimitero nuovo, quello di via Braccianese-Claudia, dove c'è spazio? In sostanza voi chiedete di accelerare per quanto riguarda la costruzione di nuovi loculi che potrebbero raccogliere i nuovi morti? Ci dicono che verranno fatti dei nuovi loculi, non è stato fatto, adesso ci dicono che forse il prossimo mese ci saranno 400 loculi che verranno dati a Civitavecchia, ma ancora non ne sappiamo nulla. Abbiamo presentato svariati progetti al comune e sono rimasti inascoltati, abbiamo presentato il progetto per recuperare le fotoceramiche che sono state stumulate negli anni, abbiamo trovato anche delle pareti dove inserire queste fotoceramiche, non ci è stata data risposta, questo nel 2022. Nel 2021 abbiamo risposto ad un bando pubblico a cui ci dicono non aver vinto, ma non abbiamo mai letto nessun atto aggiudicatorio, per cui aspettiamo risposte che non sono mai arrivate. Anche perché sono soluzioni quelle che avrete trovato alternative per cercare di conservare quello che rimane, possiamo dire così, del cimitario monumentale, perché intanto si perde parte della storia. Sì, assolutamente sono delle soluzioni che abbiamo trovato a costo zero per salvare il salvabile ormai, perché invito i cittadini a fare una passeggiata qua al lato Guglielmi del cimitero e vedranno una parte della storia di Civitavecchia completamente distrutta. Questo, come diceva appunto Cesare, come ha detto Mai, per l'emergenza Loculi. Vorremmo delle risposte in merito alla mancata costruzione dei loculi del cimitero vecchio. Io invito i cittadini a farsi un giro su Google Art e a vedere dall'alto la costruzione del cimitero nuovo e a farsi delle domande, come ce le stiamo facendo noi.